poker d'assi buongiorno ragazzi sono mister boscherini e per la nostra lezione finale sulla probabilità oggi andremo a vedere la probabilità condizionata quindi scopo della lezione di oggi è vedere come possiamo identificare eventi alleatori dipendenti l'uno dall'altro e infine calcolare la probabilità condizionata di due o più eventi dipendenti in un gioco di carte quindi un gioco d'azzardo come le carte una delle qualità importanti del giocatore è essere di valutare in maniera più o meno precisa la probabilità di vincere quindi basandosi sulle carte a sua disposizione sulle carte degli altri quindi su quante carte sono state estratte su quale carte sono visibili eccetera per fare un esempio semplicissimo uno può pensare ok qual è la possibilità che ho estraendo quattro carte una dietro l'altra da un mazzo di carte da poker quindi dal mazzo di carte francesi di essere proprio un poker d'assi quindi tutti e quattro gli assi ecco questo è un classico caso di probabilità condizionata ecco ora io non andrò a vedere proprio il caso di estrarre quattro assi proprio per fare una cosa semplice semplice andremo a vedere che probabilità ho di estrarre due assi uno dietro l'altro da un mazzo di carte e per fare questo utilizzeremo un sistema che abbiamo già visto nel video precedente che riguardava la probabilità composta quindi dovremmo usare un grafo ad albero ora un grafo ad albero per un mazzo di carte a poker può diventare una cosa parecchio complicata perché come sapete in un mazzo da poker ci sono 52 carte quindi già alla prima interazione dovrei fare 52 ramificazioni ora io farò una versione ora un grafo ad albero per un mazzo di carte da poker può diventare una cosa estremamente complicata perché già alla prima estrazione io devo fare 52 ramificazioni una per ciascuna delle carte nel mazzo quindi io mi limiterò a fare una versione semplificata in cui vado a disegnare le prime 4 ramificazioni che sono quelle a noi favorevoli cioè quelle relative ai 4 assi e poi diciamo tratteggio sapendo che queste sono tutte le altre e questo è il mio grafo ad albero per la mia prima estrazione tenendo ben presente che sono solo questi gli eventi favorevoli su tutti gli eventi possibili nella prima estrazione la seconda estrazione per ciascuno di questi rami devo fare un'ulteriore ramificazione però stando ben attento intanto è che in tutti questi casi qui in questi casi favorevoli qui a questo punto solo tre ramificazioni favorevoli perché a questo punto un assolo già usato e poi devo tenere conto che queste in totale non saranno più 52 ma saranno 51 perché a questo punto la carta l'ho già tolta 2 e 3 poi tutte le altre ramificazioni e insomma avete capito come sta andando questo grafo ad albero ora però dobbiamo cercare anche di capire cioè dobbiamo cercare di estrarre da questo grafo ad albero l'informazione che mi interessa cioè qual è la probabilità di estrarre una dietro l'altro due assi da un mazzo di carte da poker allora come al solito la probabilità del mio evento da che cosa sarà data sarà data dal rapporto tra il numero di casi favorevoli il numero di casi favorevoli è abbastanza semplice da capire perché ho quattro ramificazioni buone nella prima estrazione e per ciascuna di queste tre ramificazioni quindi è chiaro che il numero di casi a me favorevoli sarà dato da quattro per 3 ovvero e qui riscriviamo il mio denominatore il mio numeratore ho 12 casi favorevoli e già questo mi fa sentire bene ben 12 casi favorevoli alla fine non deve essere così improbabile aspettiamo un attimo andiamo a vedere ora qual è l'umore di eventi totali quanti sono quindi questi eventi totali ritorniamo alla prima estrazione prima estrazione avevo 52 casi possibili quindi 52 ramificazioni per ciascuna di questa ramificazione ne ho ulteriori 51 perché ricordate io ho già estratto una carta quindi a questo punto in mazzo mi sono rimasto 51 carte quindi di nuovo qual è il numero di casi possibili totale sarà 52 per 51 e calcolatrice la mano e questo vi incoraggio a provarlo anche a casa il numero di eventi totale è 2652 chi vuoi fosse interessato a sapere che numero è questo in percentuale è meno del 5 per 1000 cioè la metà dell'1% quindi insomma mica tanto probabile ecco l'estrazione di due carte una dopo l'altra da un mazzo di carte qualsiasi è il classico esempio di eventi dipendenti perché il primo va bene ha la sua probabilità e lì sta però l'evento successivo è condizionato dal primo perché chiaramente la probabilità di estrarre una carta specifica dipenderà da che carta abbiamo estratto precedentemente per esempio se all'inizio ho estratto un asso automaticamente diminuisco la possibilità di pescarne un altro perché a questo punto nel mio mazzo non ho più 4 assi ma ce n'ho 3 sono sì diminuite il numero di carte ma sono diminuite anche il numero di assi quindi questo è quello che noi chiamiamo due eventi dipendenti e quando si parla di eventi dipendenti si parla di probabilità condizionate come vedete quindi la matematica che sta dietro quindi il tipo di calcoli che devo fare per trovare la probabilità composta di due eventi condizionati due eventi cioè dipendenti l'uno dall'altro non è la stessa matematica che andrò a applicare come nel video precedente per calcolare la proprietà composta di due eventi indipendenti ma torniamo un attimo all'esempio di prima l'estrazione di due assi uno dietro l'altro da un mazzo di carte da poche ora io voglio capire come posso arrivare a calcolarmi questa probabilità senza ogni volta dovermi fare un complicatissimo grafo d'albero anche perché già era abbastanza complicato con due carte figuriamoci se devo andare a vedere la probabilità di estrarre tre assi o addirittura un poker di assi cioè le ramificazioni aumentano a dismisura quindi vediamo se c'è una formula matematica un pochino più semplice per arrivare al nostro risultato e cominciamo di nuovo con la prima estrazione nella prima estrazione noi abbiamo voluto estrarre un asso quindi la probabilità di estrarre un asso chiamiamolo l'evento 1 sarà dato dal numero di assi nel mazzo cioè 4 diviso il numero di carte nel mazzo va bene e questo lo mettiamo da parte estrazione successiva quella è la probabilità di estrarre a questo punto un altro asso ecco a questo punto però questa probabilità non sarà più 4 su 52 la nostra probabilità che chiameremo è 2 condizionata questo simbolo sta per condizionata dall'evento 1 da che cosa sarà dato dal fatto che ho già estratto un asso quindi me ne sono rimasti 3 e che sono rimaste 51 carte nel mio mazzo ora potete già immaginare qual è la risposta alla mia domanda c'è una formula matematica eccola qui confrontate un attimo questi due termini con quello che noi avevamo calcolato prima utilizzando il grafo d'albero potete già vedere come questo numero qui non sia altro che il prodotto di queste due probabilità cioè la probabilità di base di estrarre un asso moltiplicata per la probabilità condizionata all'estrazione del primo asso per l'estrazione del secondo asso possiamo finalmente formulare la nostra legge matematica che ci permette di calcolare la probabilità composta di due eventi dipendenti l'uno dall'altro la probabilità composta di un evento costituito da due eventi dipendenti è pare che cosa al prodotto della probabilità del primo quindi P di E1 quindi la probabilità del mio primo evento per la probabilità condizionata e quindi questo simbolo qui con questa barra verticale del secondo al primo quindi semplicemente un prodotto di queste due grandezze dove però dobbiamo tener conto del fatto che la seconda non è la probabilità dell'evento uguale a quello precedente ma è una probabilità condizionata quindi cambia sulla base dell'evento precedente nel caso che abbiamo visto in questo video il fatto che ho già estratto un asso e che mi sono rimaste solo 51 carte non più 52 all'interno del mazzo e volendo uno a questo punto questa formula può reiterare per gli eventi successivi se voglio andarmi poi a calcolare la probabilità di estrarre un poker di assi da un mazzo di carte da poker vi anticipo già che è una probabilità molto 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 bassa con questo video abbiamo concluso il nostro corso di algebra per la terza media questo non significa non ci saranno altri video utilizzate la funzione commenti per chiedere magari un video su un argomento che vi interessa ma per oggi è tutto arrivederci da mister boscherini grazie a tutti grazie a tutti